Musica Nasce a Patti un nuovo movimento ispirato alle donne, diretto e fondato da Maria Teresa Calabrese che si chiama Primavera Siciliana. Salve a tutti, sono Mary Sicilia, come ho detto poc'anzi giornalista, sono da due mesi, tre mesi quasi su web, ho deciso di farmi conoscere personalmente. Abbiamo creato questo partito, questo movimento, in particolare, soprattutto per le donne, è un movimento per le donne. Vogliamo realizzare degli obiettivi fra i quali il campo lavorativo e aiutare queste donne a livello psicologico. La nostra è una nuova politica, quella di non arricchirci, ma di aiutare queste donne per affrontare meglio la vita quotidiana. Siamo tutte donne che lavoriamo, ci alziamo presto la mattina, facciamo sacrifici e io in prima persona, affrontando questa situazione, mi metto nei panni di queste donne e quindi cerchiamo di portare avanti questo obiettivo. Perfetto, potete contare sull'appoglio, sull'aiuto anche di altre liste oppure di altri movimenti che ci sono in zona? Siamo affiancati da altri movimenti che stanno aderendo a questa nostra opportunità, tra le altre cose. Io sono uscita dalla Sicilia, mi sto facendo conoscere in tutta Italia e diversi movimenti si sono appoggiati a noi e la cosa ci gratifica. Ecco, dove pensate di poter arrivare? Noi vogliamo superare l'Italia, vogliamo arrivare oltre. Il nostro obiettivo è questo. Che dire, le intenzioni sono ottime ed anche innovative. Ovviamente noi di Omnia News ci auguriamo che gli obiettivi possono realizzarsi. Grazie a tutti.